Summit nelle celle frigorifere per evitare di essere intercettati, ma il tutto ha finito per rivelarsi perfettamente inutile. Non sono sfuggiti agli occhi e alle orecchie della mobile di Trapani, fedelissimi del superlatitante Matteo Messina Denaro, arrestati nel blizz di questa mattina, denominato opportunamente Operazione Freezer. Cappotti, cappellini, guanti e tutti dentro ai frigoriferi di un fruttivendolo vicino ai boss, per discutere delle mosse da attuare nei principali business, su tutti quello del racket delle estorsioni. Incontri che, tra un battito di denti e un altro, non potevano naturalmente durare più di qualche minuto, dieci al massimo. Indagine rilevante, quella coordinata dalla procura di Palermo e coadiuvata dalla Diatra Panese, che è riuscita a svelare il ritorno al potere nel clan alcamese di Ignazio Melodia, meglio noto come Uddutturi. Ex medico dell'ufficio ingiene del comune di Alcamo Melodia, ha scontato dieci anni di carcere dal 2002 al 2012 e, una volta libero, sarebbe tornato a capo del mandamento, insignito da Matteo Messina Denaro stesso, come rivelato da diversi pentiti. Insieme a lui, altre cinque persone sono state arrestate questa mattina. La stretta dello stesso Melodia sui commercianti era davvero forte. Proprio la Diatra Panese ha portato alla luce, grazie alla registrazione audio catturata da un coraggioso imprenditore vessato, un'estorsione in pieno stile mafioso nella quale Melodia chi arriva come comandasse mezza provincia di Trapani. Dalle intercettazioni sarebbe emerso anche un coinvolgimento diretto del medico Bosse nella campagna elettorale per le ultime comunali alcamesi risalenti ad un anno fa.